Cari amici, come promesso, oggi sfido Mikol. Voi direte, ma che cicalone sfida una ragazza? Eh, io sfido una che combatte. Abbiamo deciso così, siccome facciamo degli stili diversi, faremo tre round, ne faremo uno solo di box, e lei già si è messa i guantoni, non si è fatto di due volte, si è detto, oh buono, puoi mettere i guantoni su, ti sei messi i bandaggi e i paradenti. Ne faremo uno di MMA, perciò lei si metterà i guantini, e uno di lotta, così avremo un po' un equilibrio sulle varie cose. Ovvio che io peso di più, e magari sullo striking ho più esperienza, però è anche vero che lei è una lottatrice professionista. È più versabile, no? S'ha fatto tante cose. Vediamo che cosa verrà fuori, io non so che aspettarmi. Abbiamo l'ambulanza anche abbacchettata. Niente colpi bassi, niente cose particolari. Oh, se batto, me l'ho fatto male, eh? Ok, preparateli. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, dai col cicalone che ti insegna a fare botte. Partiamo, eh? Tutto bravo! Ok, ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Grazie. 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 Mi hai detto un guardia. Mi hai fatto delle volte di voi. Ho visto. Ho visto. Devole un mazzoletto mezzo e un altro. No, 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 no. Grande found. Siamo essi un po' scivolosi di prendersi. Grazie. 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 Siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti, se tu vuoi vincere colpisci sotto, vai con Cicalone che ti insegna a fare botte.